Via! Quando mi danno energia! La nuovissima Ferrari F12 TTF Spettacolare! Ma che ne arriva un altro! Aspetta, aspetta che arriva un altro fenomeno! Vengo un po' avanti così lei esce! Questa è la TTF! Ce ne sono 15 in Italia! Posso mettere su Youtube? Certo! 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 Venga avanti lei! Guarda dietro quello là bianco! Così riesce a passare! Venga avanti lei!